Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la modifica allo Statuto della Regione Toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto è stata aggiunta la dicitura promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. La Toscana è antifascista da sempre dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro Statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso Alato. Era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello Statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da cui stare. Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra carta costituzionale il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale che inserisce nel nostro Statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in Aula nelle due occasioni considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità dove esistono tuttora Stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore ma non si richiamano chiaramente a Stati che si dichiarano fascisti ma si dichiarano in tutt'altro modo, talvolta sono nazione a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono esattamente i regimi compiutamente democratici. Ecco noi volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana e a 100 anni dalla marcia sul Roma e quasi 80 anni dal 25 api del 1945 essere capaci di essere figli del nostro tempo. È un'occasione parziale, non raccolta compiutamente da parte nostra ma abbiamo votato convintamente chiaramente. Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento e direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la Costituzione Repubblicana prevede 12 principi generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4 e le finalità della Regione Toscana si arriva fino a lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. Apriamo una pagina costituenda che si basi proprio sull'antifascismo. Noi siamo pronti. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettere a viva i nostri valori. Questo deve essere fatto tramite le iniziative ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Però un appello mi sento di farlo. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera a politica, a confessionale e soprattutto non diventi un oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valori di tutti. Noi dobbiamo essere dei primi a dare l'esempio alle persone. Sì, soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale. Ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula si è riconosciuta su un valore, un valore che denota le nostre origini, il Pegaso e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Credo che su certi valori comunque sia indiscutibili e fondanti sia della nostra carta statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione non ci si debba dividere, anzi credo che oggi questo tipo di dibattito una volta archiviata la modifica dello statuto debba sì da un lato denotare unità di intenti e come dire una condivisione di quelle che sono le regole democratiche che ormai fanno parte del nostro vivere civile ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte. Io credo che ci debba essere necessariamente un cambio di passo da parte della Giunta regionale perché ripeto un conto è il contesto valoriale su cui ci dobbiamo muovere, le finalità sulle quali nessuno discute l'altro invece è darvi attuazione ed oggi io credo che il pragmatismo e la concretezza debbano caratterizzare maggiormente l'azione della Regione. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la relazione sull'attività 2020-2021 dell'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali. Approvata anche la proposta di risoluzione collegata per rilanciare e implementare la partecipazione perché strumento alla codefinizione delle politiche pubbliche. L'autorità per la partecipazione ha reso la propria relazione, il proprio rapporto da prima alla prima commissione e poi attraverso una proposta di risoluzione all'Aula del Consiglio regionale. Si tratta di un report dell'attività svolta negli anni 2020-2021 da parte di questa autorità per la partecipazione che si è insediata nel maggio del 2020. Un'occasione per acquisire una serie di dati importanti. Ad esempio nel 2021 sono stati finanziati percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350 mila euro. Sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi, l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali e l'Aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'autorità per la partecipazione ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio i percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni o anche un allineamento rispetto alla disciplina nazionale come ad esempio il codice degli appalti. Ovviamente cercando di incentivare i percorsi partecipativi anche nei piccoli comuni attraverso lo strumento della formazione che diventa indispensabile per rendere efficaci questi percorsi e per garantire un reale coinvolgimento delle comunità. Sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa, per armonizzare la legge regionale di riferimento con le altre leggi che prevedono la partecipazione, potrei ricordare la pianificazione urbanistica, la gestione dei beni comuni, occorre investire, dare risorse per quanto riguarda la partecipazione. Nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione ma occorre dargli risorse, occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale. Noi esprimiamo tutta una serie di perplessità perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati. Ma non è la prima volta che lo dico per quanto riguarda le figure di tutela, gli organismi in genere perché la regione toscana chiede di modificare le normative di riferimento che in gran parte non sono più attuali. L'autorità per la partecipazione è fondamentale per la regione toscana, è fondamentale per mantenere il dialogo con la cittadinanza e con gli enti locali ma finora se ha funzionato meno di quello che è stato necessario è stato per due ragioni principali. È stata molto poco finanziata, anzi nel corso del tempo definanziata i processi partecipativi invece necessitano comunque di un contributo da parte della regione per poter essere implementati e soprattutto il fatto che molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non verrebbe avere partecipazione. Il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati come dovevano essere. Quindi partecipazione sì, abbiamo la legge tra le più evolute e tra le migliori in Italia sulla partecipazione ma se non viene alimentata strutturalmente e finanziariamente resta uno strumento che viene sbandierato, non utilizzato e quindi di fatto si riduce a nulla di fatto. Allora sull'autorità della partecipazione occorre anche qui capire che tipo di percorso vogliamo fare perché se da un lato la partecipazione ha portato nell'ambito di alcuni progetti locali dei risultati anche molto interessanti, dall'altro però dobbiamo anche vedere la partecipazione come uno strumento ed è la stessa legge che lo prevede, da sfruttare nel momento in cui come accade molto spesso si debba evitare magari di adire dei contenziosi e quindi di favorire una partecipazione a monte rispetto a quelle che possono essere delle grandi opere. Questa è la distinzione che viene fuori anche dalla norma. Troppo poche sono state le partecipazioni del secondo tipo, cioè quelle che sono state attivate per concertare rispetto a grandi opere che invece sono una parte essenziale ed importante nel momento in cui si decide di intervenire a monte su una concertazione che poi debba portare alla redazione dell'opera. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge di modifica della normativa regionale sul termalismo che si compone di due articoli. Nel primo si specifica che la Regione attua le proprie politiche di promozione e di sostegno al settore termale attraverso il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione, soprattutto mediante progetti di riqualificazione del patrimonio idrotermale e di rigenerazione urbana. Con il secondo articolo invece si è approvato l'elenco dei 23 comuni termali della Toscana, via libera all'unanimità, anche a una proposta di risoluzione presentata da Italia Viva e a un ordine del giorno presentato dal PD. La proposta di legge di cui sono primo firmatario e che oggi è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, ringrazio i colleghi per aver condiviso il senso di questo provvedimento, vuole mettere in campo un'attenzione non solo sugli stabilimenti termali. Il termalismo in Toscana riguarda ben 23 comuni, molti dei quali, anche se tanti non lo sanno, sono nelle aree più periferiche e all'interno di questi territori non c'è solo la questione degli stabilimenti termali, che ovviamente è fondamentale. C'è anche un indotto economico occupazionale che si è sviluppato nel tempo e c'è anche un tessuto urbano perché le terme dove sono state e dove sono fiorenti hanno permeato profondamente i singoli centri. Quindi la nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi, affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. Noi scendiamo chiaramente nella nostra legislatura anche un po' più nello specifico. Per noi la questione è intervenire sulla rigenerazione urbana. Ci sono molti immobili abbandonati o sfitti che ovviamente hanno bisogno di essere rigenerati. La questione della promozione. Lanciamo l'idea di un marchio terme di Toscana con il coordinamento dei 23 comuni. Chiediamo ovviamente un'attenzione per tutto ciò che è strutture ricettive e commerciali connesse agli stabilimenti termali e poi in generale un focus per quelli che sono gli stabilimenti termali di proprietà regionale. Anche se ovviamente in questi 23 comuni gli stabilimenti termali sono sia pubblici che privati. Un'attenzione a tutto tondo che serviva un punto all'interno del nostro ordinamento regionale. da questo punto è stato messo, da questo punto si riparte per un'azione che sia più strutturale e più continuata nel tempo anche dopo questa nostra legislatura. Il nostro atto che abbiamo collegato alla legge individua il tema della salvaguardia dei livelli occupazionali e della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale che è di queste società e si trova in questi territori. Noi pensiamo che la regione, la giunta regionale si stia muovendo per salvaguardare questo duplice obiettivo. Sono anni che noi chiediamo alla regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo termini Montecatini e SPA, soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Invece la regione si è limitata nel corso degli anni a nominare amministratori contabili che in qualche modo hanno guardato ai conti e a gestire l'enorme debito che grava sulla società piuttosto che ripensare la collocazione delle terme nell'ambito, per esempio come Montecatini, di una città del benessere rivolta al futuro. La proposta di legge che è stata fatta sulle città termali è benvenuta, tutto quello che riguarda il termalismo è benvenuto. Io mi sono lamentata perché dal 2004 nel 2022 si fa qualcosa per il termalismo. c'è una proposta di legge che serve poi a fare un elenco dei comuni termali perché non esisteva nemmeno quello. Detto questo, oltre agli stabilimenti con la rigenerazione urbana si terrà conto dei problemi dei vari settori, alberghiero, commerciale, eccetera. Però mi sembrano tante parole e pochi fatti. PDL si dice che si farà questo, si farà quello, però in che modo si farà ancora non si sa. Forse un po' come nelle aree interne con i contributi europei, però quando non si sa. Io sono soddisfatto che finalmente a distanza di anni dalla mia proposta si inizia a parlare di termine della Toscana. quello è l'obiettivo al quale da tempo lavoro, credo che serva un unico sistema di promozione, servano risorse, serva il fatto che la politica delle terme della Toscana entri a far parte del piano regionale di sviluppo, una programmazione che possa attivare fondi comunitari, da una parte promuovere il prodotto termale della Toscana ma nel contempo avviare un grande percorso di rigenerazione urbana delle città, soprattutto quelle che sulle terme hanno costruito gran parte del proprio sviluppo urbanistico perché dentro quella rigenerazione urbana ci sta qualità, ci sta benessere, c'è un'opportunità di rilancio e di sviluppo, non si può perdere il treno dei finanziamenti comunitari per avere città che possano fondamentalmente garantire un'offerta turistica e termale di altissimo livello e di grande qualità. Per questo noi abbiamo sostenuto questa proposta di legge e nel contempo sostenuto le risoluzioni che vanno in questa direzione e quindi noi abbiamo di fronte a noi un'opportunità importante per sostenere il prodotto e la rigenerazione delle città.